Grazie Presidente per la parola. Oggi avrei voluto parlare di più, molto di più. Purtroppo i tre minuti sono veramente pochi per essere esaustivo e per spiegare quello che questa capitale sta facendo da due anni e mezzo a questa parte. Si è parlato a lungo di un'assenza di piano industriale, di una visione di una città che qualcuno vede in difficoltà. Forse ci dobbiamo anche chiedere il perché ci ritroviamo in una condizione dove gli impianti in una città come Roma, in una regione come Roma e in una regione come Lazio non ci sono. Ci dobbiamo chiedere il perché ci ritroviamo in un'azienda in grave difficoltà dove le gare vanno deserte, dove ci sono ancora operatori che purtroppo rubano mille litri di gasolio. Ci dobbiamo chiedere il perché di una situazione atalica che proviene da una storia che è Roma capitale e che questa sede, che questa aula conosce benissimo. È la storia di Panzerone, la storia di Parentopoli, è la storia di un'azienda che ha sofferto nei lunghissimi anni a questa parte e che con questa amministrazione, con questo management e con questa commissione, con questo assessorato e con la nostra sindaca stiamo cercando di riportare a dei livelli di dignità. Abbiamo portato tutto in procura, questo lo sapete, perché è giusto che venga emersa in qualche modo la verità e la trasparenza di un'azienda che ad oggi chiaramente sta facendo di tutto per dare all'azienda stessa, ma anche alla visione sulla gestione di materie di post-consumo, una visione sostenibile e anche qualificante, importante e produttiva per la città di Roma. La fatica è tanta, questo non lo possiamo negare, sicuramente è una sfida titanica, lo ribadiamo, però gli sforzi ci sono, perché i progetti per l'estensione del porta a porta nel decimo e nel sesto municipio sono stati avviati e nel decimo municipio sappiamo che la raccolta porta a porta funziona bene e questo per noi è un punto d'inizio, chiaramente non è un punto d'arrivo, però possiamo partire da dei dati che ci danno conforto, che ci danno una spinta maggiore per poi estendere questo servizio a tutta Roma. Io mi ricordo, anche quando ero consigliere del municipio, che nell'epoca marino, quando ancora la discarica era aperta, mi ricordo che attaccavo spesso la mia maggioranza e facendo un balzo nel passato ho avuto modo di leggere dei vecchi articoli del 2013 e del 2014, ve ne leggo qualcuno, tanto per rinfrescare la memoria, purtroppo non c'è più nessuno in quest'Aula, ma ci tengo però a dirlo, rifiuti la sfida del lama, dal cassonetto Etec alla raccolta porta a porta di pannolini, 08 ottobre 2014, rifiuti il girone infernale di Roccacencia, l'impianto straripra tra gabbiani e miasmi, 9 gennaio del 2014, rifiuti arrivano biocomp, 100 mini impianti di compostaggio per le scuole, 2014, ma la grotta un anno senza discarica, ma siamo ancora assediati dai rifiuti, 2014, rifiuti il porta a porta si allarga a tutta Roma, entro l'estate in ogni municipio, 2013, emergenza rifiuti senza fine, alta tensione tra Marino e Ama, 2014, rifiuti, i maiali hanno svegliato Marino, ma c'era chi denunciava da tempo, 2014, ecco come vedete i problemi c'erano anche allora, problemi che non sono mai stati affrontati di petto con un piano industriale che era appunto quello afferente a quattro biodigestori nelle zone che ben conosciamo, Roccacencia, Salario, Ponte Mannome, un'altra zona da individuare, ecco, questi impianti sicuramente non apportavano un beneficio alla nostra capitale, ma perpetravano chiaramente questo scempio, questa situazione che oggi in assenza di impianti stiamo vivendo, ma stiamo risolvendo con i progetti sull'impiantistica di compostaggio aerobico, con dei progetti che Ama ha portato e che chiaramente ha recepito tramite l'indirizzo dell'assessorato di questa Commissione, ha portato in Regione due progetti dove sono stati coinvolti per la prima volta dei cittadini, appunto del quadrante del municipio 13esimo e del municipio 15esimo, per affrontare con loro e per discutere con loro il tipo di impiantistica e anche cosa deve essere fatto all'interno di quell'impianto. Ecco, questo processo partecipativo sicuramente fa onore a un'amministrazione che vuole convolgere dal basso e vuole investire anche il parere dei propri cittadini, cosa che nel passato non fu fatta con Roccacencio e con il salario. Perciò, Presidente, io purtroppo, ripeto, volevo parlare molto, molto di più. Io ci tengo a dire una cosa, siamo soltanto noi, però era una parola importante e ci tengo a dirla anche oggi. Il tema dei rifiuti non si affronta da soli, non si affronta in modo isolato, ma si affronta insieme e se non si fa insieme sicuramente è un problema che non si risolverà. Perciò io auspicavo che oggi le opposizioni dessero in qualche modo un contributo fattivo, cosa che invece non è stato fatto anche dal Presidente Cauto, che rammenterò a lui domani che l'incendio del salario purtroppo ci fu anche nel 2015, ma dal 2015 ad oggi non ci fu nessun progetto di riconversione. Noi invece con coraggio ci faremo qualcosa che sarà di beneficio alla cittadinanza e alla stessa azienda. Perciò, Presidente, voteremo a favore questo atto e chiedo a tutti quanti uno sforzo ulteriore per dare a Roma un sistema virtuoso e tutti quanti ci dobbiamo credere. Grazie.